è una figata bravo, quello c'è guarda, guarda, guarda perché non te lo ricordavi? non te lo ricordavi Vito questo? basta andare piano uno all'ora mi raccomando, stai indietro bravo Lele bravo buccato Wow er Grazie a tutti. Mi ce l'ha fatta. Abbiamo ritrovato il disperso. E oggi la ricerca era da cercare te. Mia figlia mi ha detto alle sette e mezza. Vale com'è, è brutto.